Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal. Fino alla mattinata di domani giovedì la Liguria sarà interessata da tempo instabile con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale accompagnato da nuvolosità in aumento. Dalla pomeriggio di giovedì si attende un miglioramento che sarà più deciso venerdì con il ritorno del sole su tutta la regione. Il dettaglio oggi mercoledì 18 settembre la discesa di una massa di aria fredda sull'Europa orientale e sui Balcani richiama aria umida e instabile anche sulla nostra regione. Aumento della nuvolosità con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale più probabili nelle zone interne in locale estensione sulla costa. Venti in prevalenza deboli variabili fino alla serata quando si avrà l'ingresso di 27 intironari che saranno in rinforzo nella notte. Mare poco mosso, umidità, sublori medio-alti, temperature massime stazionarie lungo la costa tra 25 e 27 gradi, nelle zone interne tra 23 e 25 gradi. Domani giovedì 19 settembre in mattinata ancora precipitazioni residui e possibilità di rovescio temporali. Miglioramento dal pomeriggio con ampie schiarite in particolare sulle zone costiere anche grazie all'ingresso di venti sostenuti settentrionali. Venti appunto settentrionali tra moderati e forti rafficati sul centro ponente fino a moderati e levante. Mare in aumento fino a mosso, molto mosso a largo e localmente sui capi del ponente. Umidità, sublori medio-alti, in calo, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 18 e 21 gradi, nella zona interna tra 11 e 14 gradi, massime in diminuzione lungo la costa tra 22 e 25 gradi, nelle zone interne tra 17 e 21 gradi. Dopodomani, venerdì 20 settembre, giornata caratterizzata da bel tempo con cielo sereno poco nuvoloso su tutta la regione, disturbato da qualche addensamento sui rilievi. Venti ancora settentrionali fino a forti rafficati sul centro ponente fino a moderati e a levante. Mare in calo a partire da levante dove a metà mattina si avrà già mare poco mosso, in tarda serata poco mosso anche sull'imperiese. Umidità su valori medio-bassi. Temperature minime ancora in leggera diminuzione lungo la costa tra 14 e 18 gradi, nelle zone interne tra 9 e 12 gradi, massime stazionarie lungo la costa intorno a 24 e 25 gradi, nelle zone interne tra 18 e 22 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito www.arpal.gov.it sulla pagina facebook di Arpal. A risentirci!